Grazie Presidente. Allora noi non possiamo assolutamente approvare questo ordine del giorno perché sarebbe incongruente in quanto ci chiede di inserire nel piano sociale le linee guida per l'elaborazione del regolamento organizzativo dei servizi sociali. Allora non possiamo assolutamente approvarlo perché non è necessario mettere delle linee guida per la stesura del regolamento. Il piano è finalizzato al miglioramento anche organizzativo dei servizi stessi e già prevede questa stesura e questa stesura già è stata effettuata. Il regolamento è stato predisposto ed è in corso di presentazione agli organi deliberativi capitolini. Quindi non sarebbe un'incongruenza inserire nel piano sociale delle linee guida per un regolamento che sta per essere presentato. Quindi allungherebbe enormemente i tempi e soprattutto non è necessario in quanto tra poco approderà in giunta e poi in aula. Quindi noi ci asseremo. Grazie Presidente.